45 milioni e mezzo di euro per la manutenzione e riqualificazione degli assi stradali di Posillipo e dell'area a ridosso dell'aeroporto di Capodichino. Il piano degli interventi è stato presentato questa mattina dal sindaco Gaetano Manfredi e dall'assessore alle infrastrutture e mobilità Edoardo Cosenza. Il programma porterà al rifacimento della metà del 50% delle strade primarie durante questo mandato della giunta Manfredi. Quindi insomma c'è un investimento importantissimo fatto sia con fondi europei ma anche dei fondi della città metropolitana. Per il grande progetto Posillipo circa 31 milioni e mezzo di euro consentiranno di intervenire su via Manzoni, via Posillipo, via Levergilio, via Boccaccio, via Tito Lucrezio Caro, via Petrarca e via Orazio. In programma anche la riqualificazione del parco virgiliano, delle fontane cittadine ed interventi fognari con la sistemazione delle strade. Le strade di Posillipo hanno avuto una genesi molto più lunga perché Posillipo rientra nell'ambito del vincolo paesistico, quindi richiede un iter autorizzativo molto complesso sia dal punto di vista soprattutto per quanto riguarda la parte arborea. Abbiamo quasi concluso l'iter autorizzativo nella maggior parte delle strade, quindi si devono fare solamente le gare. In altri casi il percorso è più semplice. Per l'area di Capodichino circa 14 milioni di interventi interesseranno il tratto superiore di calata Capodichino, via Oreste Salomone, via Leomberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Bosco e l'emiciclo ai caduti dei Vigili del Fuoco. Alcuni già in fine 24, altri fine 25, comunque noi abbiamo un cronoprogramma, noi speriamo di concludere tutti i lavori che abbiamo già finanziato, si potrà arrivare anche agli inizi del 26. Per il 2024, oltre a Posillipo e Capodichino, è previsto l'avvio dei lavori su 16 chilometri di strade primarie, altri 32 chilometri sono stati già riqualificati tra il 2022 e il 2023. Ci sono tante altre strade unitamente a quelle già fatte, per esempio tutta la zona ospedaliere è già stata messa a posto, grandi assi viari come il Corso Vittor Emanuele, via Argine. Stiamo investendo 20-30 milioni l'anno, quindi insomma in 5 anni è un investimento davvero molto grande.